Un grosso problema che riguarda tutti i medici, non solo chi lo fa su strada, ma anche chi lo fa in reparto. La comunicazione. È inutile che mi dite che se faccio l'anatomopatologo o faccio il radiologo non ho bisogno di doti comunicative, perché in un modo o nell'altro, o mi interfaccio con parenti di pazienti, oppure con colleghi, oppure con infermieri, in un modo o nell'altro devo saper comunicare con un altro essere vivente. E devo farlo anche bene, in aggiunta. C'è qualcosa di perverso nell'istruzione superiore, che se io dico qualche cosa e tu non mi capisci, io sono intelligente e tu sei deficiente. Le cose non funzionano proprio così. La questione che molti medici ignorano è che c'è una sottile differenza tra comunicare e informare. Studiare è il punto di partenza, quindi una volta che avrò appreso questo pacco di informazioni e più possibili informazioni, allora a quel punto potrò iniziare a pensare di poter informare qualcun altro, non addetto ai lavori. Nel mio obiettivo è informare, dovrò trasmettere una determinata quantità di dati al mio interlocutore, in modo che il mio interlocutore comprenda di che cosa stiamo parlando. Tutto questo non può prescindere da una salda formazione di base, e soprattutto da un interesse specifico da parte dell'interlocutore. Quindi l'interlocutore che vorrà essere informato su un argomento di base dovrà conoscere un pochino quell'argomento o comunque esserne interessato, in modo da poter comprendere perlomeno i capisaldi. Fermo restando che la quantità di dati necessari per informare è inversamente proporzionale alla quantità di dati che mi servono per comunicare. Quindi maggiori informazioni do e meno comunico. La comunicazione, a differenza dell'informazione, deve essere ad ampio raggio, quindi più persone possibili, e deve essere sintetica e comprensibile dalla massa. Nella serie più informazioni trasmetto e più è facile che il mio interlocutore non mi comprenda se non è addetto ai lavori. Il che significa che posso avere anche un contenuto formalmente perfetto, tuttavia se non sono in grado di farlo comprendere a un'altra persona, di fatto non sto comunicando, dal punto di vista comunicativo posso anche essere il miglior medico del mondo, ma se l'altra persona non capisce cosa dico ho miseramente fallito il mio obiettivo. Fermo restando che la società cambia e anche i pazienti cambiano. Il paziente adesso vuole sapere che cosa gli stiamo facendo e se la risposta a una loro domanda sarà di tipo informativo, cioè lì sommergo di nozioni, verosimilmente non capiranno assolutamente nulla di ciò che io sto cercando di dire loro. E quindi che succederà? Niente, due volte su tre andrà su Google, digiterà la sua richiesta di informazioni e troverà la pappa pronta. Il problema della pappa pronta è che la scrive chiunque. Ci sono due regole principali nella comunicazione. La prima è che non si può non comunicare. Qui entriamo in un argomento molto molto ampio che va anche nella metalinguistica e nella comunicazione non verbale, che ovviamente per limiti di tempo oggi non tratteremo. La seconda regola è che devi parlare come mangia l'altro. Che significa? Significa che io mi fido di un qualcosa che riesco a capire. Se io non riesco a capire una determinata cosa, verosimilmente non mi fido di essa. Quindi un utente sarà molto più propenso a fidarsi nel momento in cui utilizzerai un registro linguistico simile al suo. Esempio tra tutti. Da un lato ho un professore universitario che metterà un video su YouTube di due ore, circa i vaccini. In queste due ore mi parlerà della fisiopatologia del sistema immunitario, della composizione biochimica dei vaccini, mi parlerà della reazione antigene-anticorpo, mi parlerà del sistema degli apteni e mi andrà a parlare, se Dio vuole, anche delle reazioni avverse. Dall'altro ho un video di tre minuti di un papà con in braccio una bambina che dice che sono tutte cretinate, che in realtà i vaccini fanno male perché la roba chimica fa male e che è il prodotto di una lobby di case farmaceutiche e che servono soltanto per ingrassare le multinazionali del farmaco. In realtà vi vogliamo tutti morti. Che succede? Tra complessità e semplicità inevitabilmente il non addetto ai lavori sceglierà di credere alla semplicità non solo per un registro linguistico più simile al suo ma anche per il fatto che scatena emozioni, scatena magari rabbia, scatena tristezza, scatena indignazione, scatena quello che vi pare. Alla fine della fiera il risultato è uno e uno soltanto, ovvero disinformazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.